Vediamo oggi in dettaglio alcuni pennelli particolari in vendita sul nostro sito bellearti.it Questi pennelli sono utilizzati principalmente per tecniche particolari come ad esempio il pinstriping che come possiamo vedere dall'immagine, ad esempio, che la Da Vinci ci riporta sulla confezione su un insieme di linee molto allungate e continue senza variazione di tono. Per ottenere questo effetto è necessario che il pennello abbia una punta molto lunga che fa da serbatoio. In questo modo non sarà necessario interrompere la linea che andiamo ad eseguire. Vediamo come la linea possa essere tracciata con continuità, variandone anche lo spessore, senza bisogno ogni volta di staccare per intingere il pennello. e così via. Vediamo come la linea sarà se faccia un po' di ottenere il pennello. Vediamo come la linea possa essere tracciata con l'infinale.it Questo tutto questo è un po' di e via.it Grazie a tutti.